Un momento di confronto e chiarezza per diradare le urla che hanno caratterizzato il dibattito sulla presunta nuova discarica nella città di Andria. Lo ha chiesto, ottenuto e calendarizzato per il 27 febbraio, il consigliere regionale di maggioranza Filippo Caracciolo, presidente della Commissione Affari Generali. In regione si vedranno tutti gli attori istituzionali per fare chiarezza sull'utilizzo delle volumetrie residuali della discarica per inerti denominata Ex Fratelli Acquaviva. Un momento di confronto, un momento di confronto che ho cercato e ottenuto con l'audizione il 27 di tutti i soggetti che compongono il puzzle di questa vicenda, per cui dall'assessorato all'ambiente, al capodipartimento, dal sindaco nonché presidente della provincia di Andria, al direttore generale dell'Ager, a tutti gli interlocutori istituzionali di questo territorio, perché un momento di confronto, di sano confronto su una tematica molto importante, sentita, che non deve prestare il fianco a campagna elettorale di ognuno di noi, ma deve essere la capacità politica di trarre opportunità o meno rispetto a una vicenda che sappiamo essere molto sentita dalla cittadinanza. Una vicenda attorno alla quale tutti i rappresentanti della politica si sono scontrati anche in maniera forte, nonostante l'intento sia comune, evitare che le volumetrie disponibili presso la discarica di inerti Ex Acquaviva vengano utilizzate per accogliere rifiuti solidi urbani. Per Caracciolo è opportuno ascoltare prima le motivazioni che hanno indotto la regione, attraverso il suo assessore all'ambiente Giannistea, ad esprimersi in maniera sostanzialmente favorevole. Dobbiamo comprendere quali sono le ragioni che hanno portato l'assessorato a individuare attraverso la delibera l'utilizzo di queste volumetrie prima.